E' un piano che sarà pronto entro omaggio, a differenza del precedente firmato da Lombardo, non dovrà essere approvato anche a Roma. Il nuovo piano di rifiuta e discariche in Sicilia è ormai pronto e la prima novità sarà sulla raccolta differenziata. Il piano attuale prevedeva di arrivare a differenziare il 65% nel 2015, mentre oggi sia al 7%. Il termine verrà dunque spostato al 2017 e con esso le sanzioni. Per comuni Ato che non raggiungono questo target, allo stesso tempo gli Ato verranno sostituiti nel 31 marzo da consorsi dei comuni col compito di gestire un ambito più o meno coincidente con metà del territorio provinciale. In questo caso le nuove amministrazioni dovranno gestire i servizi di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti e dovranno soprattutto appaltarli. Il nuovo piano rifiuti prevede anche una mappa degli impianti di cui si serviranno questi neonati consorsi e i comuni e in pratica all'ingresso di una discarica ci saranno un impianto di predattamento e uno di compostaggio. Il primo separa i rifiuti che devono andare in discarica da quelli smaltibili in modo diverso, mentre il secondo crea il compost, ovvero un materiale simile al torriccio ricavato dai rifiuti trattati come concimi. Il nuovo piano, infine, prevede anche un sistema informatico di controllo dei rifiuti che partono dai comuni e arrivano nelle discariche e ogni camion verrà dotato di un cosiddetto black box per verificare i trasporti effettuati e il reale peso dei rifiuti conferiti. In questo modo si può accertare il reale valore per cui pagare lo smaltimento. Grazie. 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 Grazie.